Il professor Enzo Carofalo, una sera importante qui a Mesmero, un'occasione per parlare anche della Divina Commedia, tu hai letto qualche brano, allora l'emozione nel leggere Padre Dante? Intanto leggere Dante all'Ieri per me è un motivo di orgoglio, anche perché mi appassiona molto, alcuni canti addirittura mi emozionano anche quando li leggo da solo, quindi vivere questa esperienza, dove sono stato invitato assieme ad altri miei colleghi per leggere alcuni stralci. Io ho fatto la presentazione in sostanza dei canti, anche citando qualche verso del canto di Dante Alighieri, mentre i miei colleghi hanno fatto la traduzione, hanno letto la traduzione in siciliano del nostro carissimo e indimenticabile Filippo Guastella.